Sindaco, cosa è successo? Ha soverato la mattina di Pasqua? Avvicinandomi ho visto invece che si trattava di un camper, targato tra l'altro Torino se non sbaglio, e quindi ho immaginato potesse essere qualcuno non del posto che in maniera distratta avesse parcheggiato sull'isola pedonale. Quando mi sono avvicinato per bussare al finestrino e spiegare che lì non si poteva stare, purtroppo ho scoperto che si trattava di alcune persone, che con un fare abbastanza arrogante, anche perché poi molti altri mi hanno detto di avergli bussato e avergli chiesto di spostare lì il mezzo, perché già tanta gente stava passeggiando sul lungomare e loro non intendevano farlo. Quando ho fotografato il mezzo, con la targa, avvisandoli che avrei chiamato la polizia municipale, lì hanno perso il lume della ragione, sono scesi, c'è stato un diverbio, mi hanno aggredito, siamo caduti per terra, ci siamo rialzati, e paradossalmente alla fine li ho dovuti anche difendere, poi da tutti gli altri concittadini che passavano di lì, e che constatando la loro arroganza e non voler spostare il mezzo, volevano anche loro portare avanti delle rimostranze nei confronti di questi personaggi. Un evento spiacevole che sottolinea ancora il senso e l'inciviltà che c'è purtroppo nei nostri territori, mi auguro che siano però delle mosche bianche, che il futuro sia migliore, facendo affidamento soprattutto ai giovanissimi e ai bambini, perché ogni tanto nel presente e nel quotidiano ci troviamo di fronte ad avvenimenti spiacevoli come questi.